Cari amici, Benvenuti. La riflessione che vorrei proporvi parte da due versetti, due versetti che troviamo nel Salmo 33 e precisamente i versetti 13 e 14. Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti i figli degli uomini, dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della Terra. Russell Schweikart è un nome un po' particolare, è uno dei tre piloti, dei tre astronauti di Apollo 9. Andiamo un po' nel tempo. Apollo 9 sono partiti il 3 marzo del 1969 e sono poi ammarati il 13 marzo del 1969. Scoprendo la Terra dallo spazio si è meravigliato e ha scritto queste parole. Il fatto di essere lontano dalla vita terrestre e di contemplarla dall'esterno costituisce un'esperienza unica. Non sono centinaia di paesi diversi, è uno solo ed è casa nostra. È vero, ha proprio ragione. Il nostro pianeta è molto bello. Ha poi aggiunto, appare azzurro, disseminato di macchie bianche. Esso si staglia splendido su uno sfondo perfettamente nero, disseminato di stelle che sono dei punti luminosi. Ma una domanda, anche pensando ai versetti che abbiamo letto, è il nostro creatore. Come la vede questa nostra terra? Sicuramente l'universo ha gioito e ha cantato quando il Dio ha creato la nostra terra. Tanto era bella, tanto era magnifica. Su di essa il Signore ha creato la vita e ha sistemato l'uomo, fatto a sua immagine. Un uomo capace di comunicare col suo Signore, ma un uomo capace anche di amarlo. Purtroppo però noi sappiamo bene che i suoi abitanti, noi terrestri, hanno sbagliato, hanno fatto degli errori. E quella terra che avrebbe dovuto essere ancora più bella in superficie da chi la abitava, piuttosto che vista dal di fuori, è diventata un luogo di sofferenza, di disordine, di inquinamento fisico e morale. E questo noi lo conosciamo molto bene. Allora il nostro creatore è diventato il nostro salvatore. Ha mandato il suo figliuolo a nascere come uomo su questo angolino dell'universo. Uomo Gesù che ha manifestato l'amore di Dio nei confronti nostri. Da quella volta la nostra terra, possiamo dire che è diventata ancora più preziosa. Ha portato il figliuolo di Dio in essa, il figliuolo che ha trionfato su Satana, sul peccato e sulla morte. Ed è sempre su questa terra che una moltitudine di uomini e di donne saranno passati dalla morte alla vita per diventare dei felici adoratori. Con l'augurio che innanzitutto io, ma anche voi, potremo un giorno far parte di questa immensa popolazione che gioirà per questa salvezza che Dio ci dona, che Dio ci regala grazie al suo figlio. Arrivederci alla prossima volta. Grazie a tutti.